This is the voice, this is the voice, senior Cari amici di The Voice Senior, allora ritorna naturalmente The Voice Senior, ritorna la musica, la musica che per tutti è un motivo di vita e io vorrei raccontarvi un po' attraverso la musica quelle che sono le mie canzoni preferite. Allora la canzone che mi fa alzare bene al mattino è Viva la vida dei Coldplay ed è di immediata comprensione, perché è un nino alla vita e quando uno si sveglia secondo me deve dire grazie, sono ancora viva, sto bene, quindi per me è proprio un nino alla vita ed è una canzone che mi emoziona sempre. La canzone che canto sotto la doccia è Un'estate fa, è una bellissima canzone un po' sottovalutata Un'estate fa la storia di noi due, mi piace molto, la trovo molto romantica. La canzone che mi ricorda di quando ero ragazza è la canzone del mio primo bacio sulle note di E tu di Claudio Baglioni, perché è una canzone estiva, allora per me che ero una ragazza di provincia, i primi amori sono stati al mare in Liguria dove io andavo in vacanza, a Rapallo, e quindi la canzone che io mi ricordo che mettevamo sempre nel famoso jukebox era proprio quella, E tu di Claudio Baglioni. La canzone che mi fa ballare, che io ascolto sempre, anche prima di una diretta, è Strong Enough di Cher, è un po' un manifesto come I Will Survive, quelle canzoni che ti danno la carica, lo strong enough, cioè è abbastanza forte per affrontare tutto e mi piace molto. Allora, la canzone che mi rilassa è una canzone home di Michael Bublé, è un po' triste, è un po' però mi rilassa, mi dà forse la parola home, mi dà l'idea della casa, del ritorno ed è una cosa che mi fa bene al cuore. Beh, Ova Samé, quelli sono sicura, Ova Samé di Gilbert Montagné, mi piace molto, Ova Samé, na 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 na, ti dà subito la carica, allora mentre cucino è una canzone allegro anche un po' scaccia pensieri. Non ho dubbi, Cesare Cremonini, Buon Viaggio, la trovo una canzone bellissima, non è importante la meta ma è importante proprio la strada e quindi mi piace tantissimo. L'essenza di The Voice Senior, il motivo per cui mi piace, è che alterniamo la musica, quindi la bella musica, la musica che non ha età, al mondo di vita, al mondo delle storie di queste persone e il leitmotiv della loro vita è sempre stata la musica, che per loro è stata conforto, come un caldo abbraccio e secondo me questo è il senso di questa trasmissione. The Voice Senior vi aspetta dal 26 novembre, tutti i venerdì, su Rai 1. The Voice Senior. The Voice Senior.